Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! I fan di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi potrebbero ricevere presto una brutta sorpresa. Secondo un'indiscrezione dell'ultima ora, il bidello calabrese sta frequentando una donna e presto la presenterà al grande pubblico. Dopo la fine del grande fratello, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno continuato a mostrarsi insieme. Nonostante la complicità, l'attrice ha sottolineato più volte che la magia creata tra loro nella casa più spiata d'Italia non si sarebbe più ripetuta. A conferma di ciò è emersa un'indiscrezione interessante. Il bidello calabrese sta frequentando una donna e presto uscirà allo scoperto. Un ex geffino starebbe frequentando una ragazza che vive nel suo paese e presto usciranno allo scoperto, ha annunciato sui social l'esperta di gossip Dejanira Marzano. Non ha fatto il nome di Garibaldi? Ma poco dopo ha aggiunto un dettaglio che lascia poco spazio ai dubbi. Lei è calabrese. I fan a questo punto hanno fatto due più due e sono arrivati a identificare l'ex geffino con Giuseppe. Al momento, considerando che Dejanira non ha fatto il nome di Garibaldi, non possiamo avere la certezza che sia lui. Se l'intuizione dei fan dovesse corrispondere a verità però, tra lui e Beatrice Luzzi sarebbe.